Demilitarizzazione, recupero, smaltimento e distruzione esplosivi oltre al trasporto dei materiali di classe 1 è un'azienda certificata alla Sabino Esplodenti di Contrada Termine di Casalbordino che tutti i residenti della cittadina del Chietino chiamano la polveriera ormai familiare perché attiva dal 1972 una delle poche in Italia ed in Europa ad essere conforme ai requisiti NATO e ad avere tra le altre la certificazione della Direzione Armamenti Terrestri del Ministero della Difesa una fabbrica sicura e composta da personale altamente specializzato fanno sapere anche alcune delle maestranze, circa un centinaio ma cosa può essere accaduto all'interno dell'Alto Forno dove hanno trovato la morte i tre operai Paolo Pepe, 45 anni di Pollutri, Carlo Spinelli, 54 anni di Casalbordino e Nicola Colameo, 46 anni di Guilmi è presto per dirlo con certezza, lo accerterà l'indagine aperta dalla Procura della Repubblica di Vasto e lo scopriranno gli artificieri dei carabinieri i tre, dalle prime informazioni, stavano movimentando artifici contenenti sostanze e miscele esplosive leggere quando c'è stato lo scoppio, ma non era in atto alcuna lavorazione operazioni di normale amministrazione, ma qualcosa deve essere andato storto e la tremenda esplosione non ha lasciato loro scampo il protocollo di sicurezza ha evitato altri morti e feriti, ma a nulla sono servite le ambulanze partite dagli ospedali di Lanciano, Bastio d'Ortona e neppure l'elicottero del 118 decollato da Pescara Paolo Pepe lascia la moglie un bimbo di tre anni e mezzo anche Nicola Colameo era sposato da due figli più grandi di 16 e 14 anni stessa cosa per Carlo Spinelli che lascia compagna e tre figli Grazie 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 Grazie.